Adesso ammodoliamoci Ma si sta battendo, può ordinare assurdo Allora è finita, perché qui c'è l'elettrono che sta scoppiando Questo non è ancora Allora se siamo i primi a pubblicare queste robe Poi non ci potranno dire gli altri C'è una mia vita che mi piaceva, è passata D'acqua si è un mordone guarda qui? guarda qui? Aiuto! Grazie!